Quindi questa statua si trovava nella chiesetta di Romanica di Lundua, che adesso non c'è più, è tutta distrutta. Nel 1700 è caduto giù il tetto, mentre la statua è molto più antica. Il rettore l'ha portata dalla, il Fosongianese si è nata l'Eso Furistato. Ecco, 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 non l'Eso Furistato. Questa è stata la prima, l'abbiamo trovata. Ecco. E poi ho detto, se c'è qua, si sta pure là. E infatti, e sono diverse, quindi infatti quella è più elegante, più... Questo lì non dirisco, non siamo riusciti ancora... A scostarlo? No, 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 quella vede che c'è un simbolo. Sì, c'è un simbolo, non siete riusciti a capire che simbolo potrebbe essere. Ma sembrano due bambini, delle volte, boh, non si capisce. Allora ho detto, cercavano, cercavano. È vero che c'è, non si capisce bene cosa potrebbe essere. Eh sì. Questo è l'ultimo ritrovato. A quando risale questo rinvenimento? Nel 2017. Ah, è proprio... Sì, sì, quando abbiamo rifatto... Ma potresti che ci siano anche altre nicchie. Questa è la statua originale... No, l'abbiamo provato anche dentro... Si può vedere che c'è anche rublo. Eh. L'abbiamo provato, ma non c'è nessuno. Perché ho visto che c'è il bozzetto di quello che poteva essere davanti, quello che c'è nella cappella. L'abbiamo è stato ritrovato quando hanno fatto degli scavi per il pavimento sotto terra. Sì. Perché... Questa era sempre una cappella, mi ricordo, quando venivo con Don Ziretu. Questo è... Era nella cappella lì. Eh, lo Spirito Santo piccolo. Sì, sì, sì. Questo è del 1600. Sì, sì. No, ma dico, questa nella cappella qua... Ecco, potrebbe essere il bozzetto del rosone? No, questo è stato trovato giù perché qui hanno fatto un macello. Giù dove? Questo... giù negli scavi sotto terra l'abbiamo trovato. Ma non è da escludere che fosse il bozzetto del... così doveva essere il rosone per lì, nell'interno del rosone. Capito? O non è stato mai fatto, è rimasto a livello di bozzetto, in modo che poi lo costruissero per metterlo qua. O dentro una... nella chiesa romanica. Anche questo è stato tutto messo in evidenza, no? Sì. Non era così, era... No, no. Tutti gli archi, tutte le... E poi c'è un'altra novità, ecco, ed è questa. E questo quando... dove era? Questo era... io l'ho conosciuto da bambino, dal cortile dei... cosa? Qui c'è una scritta? Sì, 1320. Hai così, 320, esatto, M. Allora... E poi c'è ancora scritto qualcos'altro sotto. Eh, ma non si capisce. Allora, o è un'acqua sanziera, oppure fonte battesimale. Sì. Eh... Sì. Sì, 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 sì. No, sarebbe da... da leggere anche l'altra... l'altra scrittura che c'è, che... Sì. Perché... Non si capisce bene se sono parole latine o parole grecche. Non si... non... Anche questa, eh? Sì, sì. Ci sono... Ci sono... C'è una specie di A... Ma... Eh... Ma... Guardi... Guarda... Ci sono... Se noi guardiamo queste cose qua... Sì. Ma vede che qui c'è per... Qui un ponte battesimale, eh? Eh? Più fonte battesimale per far scendere l'acqua. Sembrerebbe... C'è il buco proprio per far scendere l'acqua. Sì. Che cosa volevo... Voglio fare... Fare... Una cosa... In metro. Ah, in metro, sì, sì. In metro. Tutto quanto tondo così, anche più. Sì. Il grande povertino... Di modo che... Lo possa utilizzare. E quindi... Si preserva e... E va bene, sì. Certamente... E questo dovrebbe risalire a... Eh... A 1320. Sì, 1320. Sì, 1320. Quindi dell'antica chiesa romanica. No, no, no. Di questa... Della prima parte. Della prima parte. Della prima parte. Cappella degli anni, San Giovanni e l'altra. E l'altra. Quella del 2003. Quella era... Era la chiesetta. Poi hanno fatto questo. Che... Nel 2006. Qui c'era un'altra... Un'altra nicchia. Sì. C'era San Sebastiano. Non me l'hanno voluta di fare. Far fare fare... Se c'era... Eh... No, ma... No... Per me... Certo. 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 Bella... Questa idea anche di illuminare le vie crucis. In questo tempo di quaresima. No, ma quale... Ma guarda... Se tu lo vedessi con quella luce... Eh... Ti dà un raccoglimento. Allora... Se lo... Quando lo rifà... Mi avvisi... Perché voglio proprio vederla... E proprio... 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 Che ti avvolge. Chi gliel'ha fatto il lavoro? Eh... Gianni Melis. Cioè... Il lavoro manuale... L'ha fatto uno del... Parrucchiano. Però il progetto e tutta la... La pittura l'ha fatto Melis. Va bene. Allora... Ci vediamo. Grazie.